Ciao, io sono il cane Yuko e oggi sono a far spesa con lei, la mia umana. Beh, qualunque cosa voglia dire far spesa ovviamente. Quello che ho capito è che qua c'è un sacco di cibo, ma che la mia padroncina prende tutto quello che io non posso mangiare. Uff, è veramente un'ingiustizia. Guardatela come si impegna a scegliere il suo cibo e invece per me non c'è proprio niente. Ma dove sono i biscottini? Ehi, ma aspetta, vedo qualcosa laggiù, c'è un altro cagnolino oltre me. Infatti poi si è avvicinato e mi ha detto un segreto. Che cosa? C'è un reparto utterramente per noi animali, ma devo andarci subito. Così l'ho ringraziato e ho iniziato a spingere il carrello della mia umana. Dai padroncina, facciamo in fretta. E poi finalmente siamo arrivati. Ehi, ma dove mi trovo? In paradiso. C'erano davvero tantissimi snack deliziosi. Ehi, ma questi sono i miei preferiti. Così, beh, ho dovuto un po' convincere la mia umana, ma alla fine ce l'ho fatta a farmeli prendere tutti. No, non ci credo. Non ci sono quegli oggetti che amo sempre mordicchiare e rompere. Così la mia umana li ha presi e abbiamo fatto due tiri. Beh, è stato molto divertente. Appena uscirò di qui dire a tutti i miei amici cagnolini di entrare.